Il G.L. ha sudotto anche il Movimento 5 Stelle? Assolutamente, io direi proprio di no, io non ho capito, hanno invitato il Movimento 5 Stelle a dire la propria opinione, il Movimento 5 Stelle con verità, come fa in Parlamento e come fa in tutti i posti, dice la sua opinione. Noi siamo un gruppo sano, siamo un gruppo forte, non ci lasciamo intimidare da nessuno. Ma chiedetela a loro questa cosa, nel fatto che... Io ho ricevuto un invito, ne abbiamo discusso con alcuni colleghi e quindi noi non abbiamo paura di confrontarci con nessuno e con chiunque venga. Ma che fino ha fatto il Comunione Liberazione trasformato in Comunione Fatturazione? Lo scriveva nel 2013 Grillo, perché oggi l'idea è cambiata? Ma io non capisco perché voi volete vedere che l'idea sia cambiata. Noi diciamo sempre quello che abbiamo sempre detto, per noi le cose non sono assolutamente cambiate, ci invitano a dire la nostra, noi veniamo senza nessuna paura. Noi siamo pronti a governare e quindi governando dobbiamo confrontarci con tutti e non dobbiamo certo avere paura di mettersi a dei tavoli con degli interlocutori. Senta Grillo diceva liberiamo Rimini però, diceva liberiamo Rimini da CL, insomma oggi qualcosa è cambiato. Super fantastico Ciao Guys Grazie a tutti